Antonella Fiordelisi, al GF VIP7 ho mostrato il mio più sensibile e dolce ora ho dei progetti in tv ma sono passate solo poche settimane dalla fine del GF VIP7, ma Antonella Fiordelisi guarda già al futuro e fa il pieno di progetti. Sia per quanto riguarda la sua vita privata al fianco di Edoardo Donnamaria, sia per quanto riguarda quella professionale. Con il lancio a breve della sua prima capsule collection di gioielli. Intervistata dal settimanale Chi, Antonella ha ricordato il suo esordio nella scherma e la sua esperienza nella casa. E a proposito di social, Antonella è a tutti gli effetti un influenciere con la sua community e ama condividere consigli di bellezza. I suoi segreti sono i capelli, che devono essere sempre ordinati, e avere una buona base di trucco. Anche se semplice. Spesso poi utilizza delle lenti a contatto graduate, per combinare il colore degli occhi a quello del trucco o dell'abito che indossa. Parlando invece della sua skin care, alla base di tutto c'è una buona detersione, seguita dalla crema mattina e sera. Tra i nuovi progetti professionali della Fiordelisi c'è il lancio di una capsule collection di gioielli. Ispirata agli scacchi, il suo gioco preferito nella casa, ma anche per la TV ci sono delle notizie in vista. Nel frattempo nella vita privata tutto procede a gonfie vele con il suo Edoardo, Domenica. Infatti, la coppia ha festeggiato i primi sei mesi insieme e non potrebbero mostrarsi più affiatati. Grazie.